bene carissimi prendiamo in mano il nostro libro di catechesi la tentazione edizione su garco va da livello autore potete richiederlo nelle migliori librerie invece quelle cattoliche ma anche qui a Radio Maria e siamo cari amici ci siamo introdotti nel vivo della nostra catechesi sulla tentazione con una distinzione che è fondamentale cari amici perché è una distinzione che c'è nella sacra scrittura e la distinzione fra la prova da una parte e la tentazione dall'altra cioè dobbiamo confondere le tentazioni con le prove anche se cari amici dobbiamo dire che anche le prove molte volte possono diventare una tentazione però perché è necessaria questa distinzione perché la provenienza della prova e della tentazione è diversa radicalmente diversa la prova viene da Dio il quale prova abbiamo visto cari amici cattolese precedenti perché Dio prova Dio prova praticamente il nostro amore Dio prova la nostra fedeltà e quindi quindi il tempo della vita è il tempo di prova perché quello che Dio ci cioè nel quale dobbiamo scegliere liberamente se accettiamo di accogliere Dio di amarlo sopra ogni cosa oppure oppure no quindi possiamo dire che la vita è una prova di amore cioè Dio ci prova nell'amore che abbiamo verso di Lui e naturalmente l'amore verso Dio si esprime si concretizza diventa lo si prova anch'esso nella sua verità se è accompagnato dall'amore del prossimo la tentazione cari amici è radicalmente diversa come origine la tentazione viene da un demonio non da Dio certamente abbiamo detto cari amici che la tentazione può avere tre origini nel senso che la tentazione molte volte viene da noi stessi dalla nostra carne corrotta che inclina al peccato che inclina al male anche dopo il battesimo benché siamo rivestiti dalla grazia santificante in noi rimane la concupiscenza che spinge al male non è peccato ma spinge al peccato molte tentazioni vengono dalla concupiscenza che abbiamo dentro di noi molte tentazioni vengono anche dal mondo anzi molte volte proprio il mondo che stimola la nostra carne ciò che passa attraverso gli occhi in modo speciale attraverso le orecchie a diversi sensi stimola la nostra fame di mondo e quindi siamo tentati al male per cui non c'è dubbio che satana non ha bisogno di intervenire continuamente per tentarci perché bastano per molti basta la carne e basta il mondo tuttavia cari amici sia la carne sia il mondo sono inquinati dal veleno satanico cioè noi c'è la tendenza al male perché siamo stati inquinati dal veleno del serpente anche il mondo è sotto il suo dominio quindi in ultima istanza in ultima istanza anche le tentazioni che vengono dalla carne e dal mondo in ultima istanza hanno per autore il demonio il demonio però si occupa personalmente delle persone che sono più salde nel bene specialmente si occupa delle persone che resistono alle sollecitazioni della carne e alle seduzioni del mondo allora il demonio prepara a queste persone delle tentazioni speciali come d'altra parte vediamo nell'apertura dei Vangeli con Gesù nel deserto del quale si occupa personalmente satana dunque la tentazione viene dal demonio mentre la prova viene da Dio poi anche la finalità è diversa mentre la prova che viene da Dio ha come scopo di provare il nostro amore quindi ha come scopo di purificarci, di rafforzarci e di farci crescere nell'amore di Dio e anche per lo scopo di far conoscere a noi stessi chi siamo perché molte volte noi stessi ci illudiamo di essere più di quel che siamo sappiamo come San Pietro di fronte all'ammonimento di Gesù che gli diceva appunto che prima che il gallo canti Gesù ha preannunciato la tentazione della fede e aveva preannunciato che sarebbero caduti e Pietro dice non sia mai signore io non ti tradirò mai, io non verò mai meno e Gesù gli disse prima che il gallo canti due volte tu mi avrai tradito tre volte quindi la tentazione, la prova serve anche a Dio per mostrare chi siamo perché prendiamo coscienza della nostra debolezza e perché prendendo coscienza della nostra debolezza lavoriamo su noi stessi per la nostra conversione dunque adesso vediamo però andiamo nel vivo per vedere quali sono le prove principali a cui una persona è soggetta nella vita poi naturalmente le prove sono molto personalizzate noi personalizzeremo nelle prossime catechesi una serie di prove che Dio ci manda nella vita che hanno lo scopo quindi di farci crescere nel cammino spirituale sono le prove della fede, le prove della sofferenza le prove della persecuzione sono la prova della perseveranza e infine la prova della speranza che è la prova che dobbiamo vincere assolutamente perché nonostante i nostri peccati le nostre infedeltà dobbiamo sempre sperare nella divina misericordia vediamo allora cari amici per prima oggi la prova della fede siamo a pagina 23 del nostro libro incominciamo proprio in fondo leggiamo e commentiamo quella prova della fede a cui cari amici siamo tutti soggetti perché abbiamo tutti dei momenti in cui entriamo in crisi di fede abbiamo i dubbi di fede siamo tentati nella fede e quindi la fede vi è messa alla prova e sappiamo come alcuni vacillano e anche perdono la fede perché non sanno combattere nel momento della prova non sanno vegliare e pregare nel momento della prova della fede e quindi questa è certamente una delle prove più tremende perché una volta che si è persa la fede poi cari amici è ben difficile poi riacquistarla lo vediamo nel caso di Giuda che aveva perso la fede in Gesù Cristo figlio di Dio e quando ebbe il rischio della coscienza non andò più in là nel riconoscere in un uomo innocente ma non andò più in là e non ebbe quindi quella grazia almeno giudicando esternamente quella grazia e quell'affidamento che era necessario perché potesse salvarsi nella Sacra Scrittura la prova della precedenza è quella della fede cioè per la Sacra Scrittura la prova della precedenza è quella della fede noi sappiamo da questo punto di vista quali grandi figure abbia messo in evidenza la Sacra Scrittura in particolare quella di Abramo quella di Giobbe quella di Davide ma anche quella dei profeti sono tutte persone che hanno passato sono passate attraverso le fiamme della prova della fede l'autore della lettera agli ebrei ne dà un affresco grandioso cioè dei personaggi della scrittura che sono passati attraverso la prova della fede nel capitolo undecimo della lettera agli ebrei passando i rassegni grandi personaggi della storia della salvezza l'autore della lettera agli ebrei che si pensa che sia un autore di scuola paolina mostra come sono riusciti i vittoriosi attraverso lotte e persecuzioni rimanendo saldi nella fede sapevo cari amici che anche San Paolo quando fa il bilancio della sua vita dice ho combattuto la buona battaglia ho terminato la corsa ho conservato la fede è quello che sta a cuore a tutti anche sottoscritto da arrivare al termine della propria vita rimanendo saldo nella fede perché se non si rimane saldi nella fede fino alla fine si è corso in vano la parola di Dio non si stanca di ammonire che soltanto perseverando nella fede fino alla fine potremo essere salvi lo dice anche Gesù chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo il peccato di incredulità che oggi è molto diffuso cari amici è quello che porta inevitabilmente alla perdizione perché senza la fede non è possibile l'affidamento alla divina misericordia cioè se uno muore senza fidarsi se uno muore senza fede cari amici chi crede sarà salvato chi non crede sarà condannato parola di Gesù il maffatore crocifisso alla destra di Gesù non aveva più peccati da farsi perdonare di quello appeso alla sua sinistra cioè non è che il peccatore che era alla destra di Gesù aveva meno peccati di quello che era alla sinistra forse ne aveva anche di più solo che si è affidato alla divina misericordia il peccatore appunto che stava alla destra è stato salvato ed è stato introdotto in quel giorno stesso in paradiso perché ha creduto che Gesù nel momento della sua umana sconfitta era il figlio di Dio e il salvatore del mondo passare attraverso l'oscurità della vita tenendo viva la fiaccola della fede significa lasciare aperto il varco che introduce nel golfo di luce dall'eternità cioè chi tiene accesa la lampada della fede passa attraverso il tunnel oscuro della morte illuminando la via colponduce all'eternità chi resiste saldo nella fede nel figlio di Dio si salva nonostante la moltitudine dei suoi peccati oggi cari amici una delle cose che più sorprende è come la gente quando valuta i peccati magari si ferma su alcuni comandamenti ma non si ferma sul primo comandamento che è appunto quello che ci dice di credere in Dio e di amaro sopra ogni cosa cioè detto in parole povere oggi si sottostima il peccato di incredulità che è il più diffuso è il più grave è il più micidiale il peccato di incredulità è il più diffuso è il più diffuso il più è quello che compromette la vita eterna e purtroppo è sottostimato perché è sottostimato perché manca una catechesi al riguardo dunque cari amici che resiste saldo nella fede nel figlio di Dio si salva nonostante la moltitudine dei suoi peccati infatti la luce della fede illumina il male che ci affligge e nel medesimo tempo ci rende certi del perdono divino cioè nella fede uno prende coscienza dei suoi peccati ma nella fede uno anche prende coscienza della divina misericordia e li affida alla divina misericordia al contrario cari amici chi è senza fede non vede né il peccato né la divina misericordia e muore senza Dio e senza speranza quindi non sottovalutate il peccato contro la fede l'incredulità è molto peggio dell'immoralità l'immoralità è sempre esistita l'incredulità è tipica del nostro tempo e appunto mentre l'immoralità che comunque lascia aperta uno spiraglio alla fede può essere redenta l'immoralità che non lascia aperta uno spiraglio alla fede non può essere redenta la saga scrittura insomma qui cari amici i due ladroni sono tutti due immorali però uno si è salvato l'altro no perché uno ha crevuto l'altro invece bestemmiava la saga scrittura quindi non è che quella donna di destra è matta in paradiso perché aveva fatto meno peccati ma perché avendoli fatti si è affidato alla divina misericordia l'altro forse l'aveva fatta anche di meno chi lo sa ma si è murato nell'incredulità d'altra parte perché Pietro si è riscattato dopo il renegamento perché ha creduto nel figlio di Dio comunque mentre Giuda da tempo aveva perso la fede la saga scrittura è ricca di esempi di perseveranza nella fede come di ruvonosa caduta nell'incredulità la madre di tutte le prove nella fede è quella dei progenitori situata all'origine della storia della salvezza cioè la prima prova della fede hanno avuto i progenitori che hanno creduto che non hanno creduto alla parola di Dio e hanno creduto alla menzogna del serpente capito? quindi il peccato dei progenitori si è di superbi di disubbidienza ma la radice c'è l'incredulità non hanno creduto alla parola di Dio hanno creduto alla parola del serpente la prova a cui il creatore ha sottoposto i progenitori del genere umano è fondamentalmente quella della fede infatti essi pur essendo stati elevati in grazia non erano ancora stati introdotti nella visione beatifica anche i progenitori vivevano nella dimensione della fede come noi anche naturalmente se loro avevano quei doni e quella familiarità con Dio che noi invece dobbiamo abbiamo solo parzialmente che dobbiamo conquistarci il peccato di superbi di disubbidienza di Adamo e Eva è spuntato sulla radice maligna dell'incredulità esse infatti non hanno creduto alla parola del creatore ma a quella del serpente infernale l'occhio della loro mente si è staccato dalla luce vera e dalla verità per aderire alla falsa luce della menzogna cioè Eva invece di contemplare la parola di Dio ha contemplato la menzogna del serpente invece di accettare la sovranità di Dio essi hanno scelto se stessi come Dio se fossero stati saldi nella parola del creatore avrebbero vittoriosamente superato la prova avendo prestato orecchio a un'altra voce che non era quella di Dio hanno aperto un varco alla tentazione e sono caduti nel peccato di incredulità il catechismo della chiesa cattolica riguarda estremamente lapidario il numero 397 scrive l'uomo tentato dal diavolo ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei confronti del creatore vedi che anche per il catechismo la radice del peccato di disubbidienza e di superbia dei progenitori è avvenuto perché hanno lasciato spegnere nel cuore la fiducia cioè la fede e la fiducia nei confronti del creatore e abusando della propria libertà hanno disubbidito il comandamento di Dio in ciò è consistito dice il catechismo il primo peccato dell'uomo in seguito ogni peccato sarà una disubbidienza a Dio e una mancanza di fiducia nella sua bontà ogni peccato è un peccato di incredulità di mancanza di fiducia e di disubbidienza per noi va anche detto è anche un peccato di fragilità perché la nostra natura umana è molto più fragile di quella di Adamo e Eva se durante la prova che viene da Dio l'uomo vacina nella fede si apre pericolosamente una breccia attraverso la quale si insinua il tentatore cioè quando uno è provato nella fede se uno non rinnova la sua fiducia si apre una breccia per cui la prova diventa tentazione ciò che nell'intenzione di Dio è uno strumento di grazia cioè la prova della fede per mancanza di fiducia diviene un dardo infuocato nelle mani del maligno a causa dell'incredulità la prova diventa una tentazione e un'occasione di caduta la storia della salvezza cari amici quindi vedete sto mettendo in luce sto mettendo in luce la prova della fede e il peccato dell'incredulità che è un peccato molto diffuso oggi la storia della salvezza da Adamo fino al ritorno del Signore nella gloria è caratterizzata dalla incredulità degli uomini il peccato delle origini si rinnova di generazione in generazione fino alla fine dei tempi Israele che esce dall'Egitto e che attraverso il deserto cammina verso la terra promessa è il simbolo dell'umanità ostinata nel preferire le tenebre alla luce il popolo scelto da Dio rifiuta di credere e si erige un vitello d'oro alla terra promessa preferisce il ritorno sotto la schiavitù del faraone l'incredulità cari amici è purtroppo una costante del rapporto dell'uomo con Dio sono relativamente pochi quelli che superano l'esame divino della fede e dell'abbandono totale queste anime che superano l'esame sono la luce del mondo di esse Dio si serve per sostenere la fragilità dei pusillanimi e gli sbandamenti dell'umana ottusità nell'antico testamento come persone credenti emerge la figura luminosa di Abramo a riguardo la lettera all'ebrea dice per fede Abramo messo alla prova offrì Isacco e proprio lui che aveva ricevuto le promesse offrì su unigenito figlio del quale era stato detto mediante Isacco avrai una una tua discendenza egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dei morti per questo lo riebbe anche come simbolo ancora più grande della fede di Abramo è stata la fede della Vergine Maria l'angelo del Signore ha creduto ciò che nella storia del mondo rappresenta l'evento inaudito e cioè lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra perché colui che nascerà da te sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio la fede di Maria non ha mai vacillato neppure i piedi della croce quando il figlio di Dio ha gridato è lì è lì le masabachtani che significa Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato deponendo il corpo nel sepolcro la madre ha resistito da sola all'onda travolgente dell'incredulità e ha atteso nella speranza all'ora della risurrezione la fede di Maria è la luce più grande che mai si sia accesa sulla terra ma è anche quella che è passata attraverso la prova più grande durante l'intera vita cioè tutta la vita di Maria è stata una prova della fede che lei ha superato vittoriosamente infatti la prima beatitudine che Maria riceve proprio dalla cugina Elisabetta è beata a te che hai creduto è così che invece la prova della fede accompagna la vita della chiesa e di ogni cristiano ma anche il cammino dell'umanità dopo il diluvio della pentecoste il diluvio di fuoco la fede è stato un incendio inarrestabile che si è diffuso in ogni angolo della terra le adulterazioni le eresie e le scissioni suscitate dal nemico non sono riuscite a fermare e diffondersi della luce divina tuttavia negli ultimi secoli abbiamo visto il dilagare dell'incredulità proprio in quel continente che è stata la luce del mondo c'è l'Europa la tenebra cala silenziosa come una fitta nebbia invernale avvolgendo nella sua oscurità ogni cosa i cuori cari amici specialmente oggi sono passati al vaglio uno per uno ecco Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano la chiesa e l'umanità cari amici sono entrate nel tempo di una grande prova della fede e a riguardo il catechismo della chiesa cattolica numero 675 dice prima dell'avvenuta di Cristo la chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti la persecuzione che accompagna il suo peliclaggio sulla terra svelerà il mistero di iniquità sotto la forma di una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi al prezzo dell'apostasia della verità la massima impostura religiosa è quella dell'anticristo cioè di un obsedo messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo messia venuto dalla carne è il numero 675 del catechismo della chiesa cattolica cari amici che preannuncia la più grande prova della fede di tutti i tempi che sarà quella del tempo dell'anticristo che precede l'avvenuta di Cristo nella gloria beati coloro che passeranno attraverso le fiamme dell'incendio devastatore senza rimanere bruciati e dico cari amici beati coloro che in questi tempi di prova della fede rimaranno saldi nella fede come ha detto anche la Madonna a chi becco in Africa oggi molti perdono la fede senza accorgersene cari amici e oggi la prova della fede certamente è una delle prove più diffuse capillari che che dobbiamo affrontare e i risultati li vediamo e cioè molte persone vivono senza Dio senza Cristo senza eternità senza immortalità e vivono appunto nella nelle tenebre dell'uomo di morte perché perché hanno scelto spegnere la luce della fede non hanno alimentata con la preghiera per capire l'uomo di morte la fede non hanno che non hanno dà Grazie.